Mi capita spesso, davvero spessissimo, nei commenti di leggere qualcosa di simile. Ma che senso ha commentare le conferenze stampa? Sono soltanto un concentrato di domande che sono sempre le stesse, risposte che sono sempre le stesse. E capitano quelle conferenze stampa. Ce lo siamo detti più volte, quando ci sono delle conferenze stampa piatte e noiose, non ci siamo mai tirati indietro dal comunicarlo. Addirittura inizio video, vi facevo il disclaimer, attenzione, non si è detto niente, potete uscire, tranquilli, andate a fare un giro al parco. Però poi ci sono quelle come quella di oggi, e quella di oggi è stata una conferenza stampa importante. Perché? Perché le conferenze stampa ti danno un po' la dimensione di quello che è l'umore della persona. Di quello che è il periodo che sta passando la persona. Perché? Perché c'è la comunicazione. E la comunicazione, spesso la puoi fingere, a volte no. Nelle prime conferenze stampa si era visto un Tiago Motta forte della sua posizione, sicuro, al caldo, sulla sua poltrona. Oggi invece è un Tiago Motta che mette in evidenza tutti quelli che sono i suoi momenti umani. Perché oggi Tiago Motta ha dimostrato veramente di essere un uomo, di essere anche in un momento un po' particolare, per quanto lui abbia negato dicendo no, non è un momento difficile. Ce l'ha fatto capire che in questo momento c'è qualcosa che non funziona, e ce l'ha detto nel modo migliore possibile, spiegandoci tutto quello che per lui non sta funzionando. Oggi Tiago Motta ha fatto quello che potrebbe essere un video che facciamo noi su YouTube parlando di Tiago Motta. Oggi Tiago Motta ha messo in evidenza tutti i limiti della Juve di Tiago Motta. Questa cosa è meravigliosa, perché è una grandissima autocritica al suo lavoro. Purtroppo la sensazione è che la Juventus non sia cresciuta negli ultimi due mesi, anzi che abbia forse fatto qualche passo indietro. Questa sensazione Tiago Motta ce la va non solo a confermare, ma ci va anche a spiegare le cose che sono andate peggio, e le cose che servono per tornare ad andare meglio. Mi è piaciuta tantissimo questa conferenza stampa, e non solo perché oggi è il compleanno della Juventus. Quindi tanti auguri, cara Juve. Tanti, tanti auguri. Sperando che domani si possa festeggiare tutti insieme nel migliore dei modi. E allora Tiago Motta chiede uno subito un pensiero sul compleanno della Juve e come sta il gruppo. E Tiago Motta dice Sono felice e onorato di far parte della storia di questo grande club. Auguro il meglio sia oggi sia in futuro. I ragazzi stanno bene. Oggi avremo l'ultimo allenamento di preparazione prima di andare a Udine. Siamo concentrati sulla partita e dovremo fare una grande prestazione contro una squadra che in casa sta molto bene. I gol subiti. Tanti gol subiti nelle ultime partite. Quali sono le spiegazioni? E Tiago Motta dice Dobbiamo fare molto meglio a livello collettivo. Essere più compatti. Aiutarsi di più. Capire quando fare la prima regressione e quando ricompattarci. Dobbiamo essere aggressivi. Lasciare meno spazio ai giocatori delle squadre che andavano a affrontare. Sia quando vengono a contrattaccare. Sia quando trovano degli spazi tra le linee. E gli lasciamo il tempo di pensare alla giocata migliore da fare. E questo si fa da squadra. Ognuno deve dare qualcosa in più per essere più comodi in campo. Quindi il primo tassello, il primo dettaglio da sistemare è la fase difensiva. Ed è una fase difensiva che deve funzionare meglio a livello collettivo. Posso dirvi, al di là del fatto che anche ieri nelle pagelle vi dicevo Ripartiamo dali, ripartiamo dalla difesa. Che è la cosa più importante. Ritrovarla, l'assetto difensivo è la prima cosa da fare. 100%. Però questa roba qui, nelle prime gare la Juventus la faceva benissimo. Nelle ultime gare l'ha fatta in maniera pessima. E credo che collettivo sia la parola chiave Che vada a racchiudere quello che funzionava prima e quello che non funziona adesso. La grande differenza è quella. Prima si difendeva davvero a blocco collettivo. Adesso decisamente meno. E quindi sì, questo è il primo punto. Ritrovare una solidità difensiva a livello collettivo. Difendere da squadra. Blauvi c'è il giocatore che tocca meno palla. È normale? È dato che il compleanno della Juve ci regala la formazione? E Diego Motta dice no, oggi non c'è il regalo. Dusan insieme agli altri deve fare sicuramente meglio in fase sia offensiva che difensiva. La questione non è toccare più o meno palloni. Perché non importa quanti palloni tocco. Ma quanto riesco a essere decisivo con la squadra all'interno delle fasi. Non è la quantità, ma è la qualità. E questo vale sia per lui che per gli altri. Perfetto ed enciclopedico. La classifica. Da fastidio vedere la Juve al sesto posto? Parto io. Sì. Un fastidio maledetto. Ma siamo al primo di ottobre. Anzi di novembre, scusate. Mi sono perso i mesi. Siamo al primo di novembre. E i campionati non finiscono al primo di novembre. Da fastidio sì. Ma la stagione non è finita. Anzi. Siamo a un quarto del campionato. Dobbiamo fare molto meglio per tornare a stare alti in classifica. Ed è la cosa importante. Dobbiamo andare a Udine convinti e concreti per fare una grande prestazione. Fare risultato e scalare la classifica. Siamo all'inizio. Chiaro che dobbiamo fare molto meglio visto il risultato dell'ultima partita. Anche se non facendo il nostro massimo dobbiamo migliorare. Se una squadra meritava di più era la nostra. Non lo dico io. Si vede nelle immagini, nei dati riguardando la partita. Questo non è stato sufficiente per vincere. E abbiamo ottenuto un pareggio. Dobbiamo fare bene con l'Udinese sia per la partita che per la classifica. Io qui non sono d'accordo con Diego Motte invece. Qua no. Perché secondo me Juventus-Parma 2-2 era una partita che potevano vincere tutte e due. Se l'avesse vinta al Parma non avrebbe rubato niente. Perché ha avuto delle occasioni importanti nel momento in cui la squadra si è sfilacciata. Abbiamo perso compattezza. Abbiamo perso il controllo del centrocampo. E in quel momento lì se il Parma lo vince non hai assolutamente nulla da dire. Non credo che la Juventus abbia meritato di vincere quella partita o che abbia fatto meglio del Parma. Questo non lo penso. Che non significa che la Juventus dovesse perdere. Sto dicendo che era una partita che poteva finire con la vittoria della Juve, con la vittoria del Parma o con il pareggio. Era letteralmente una partita da tripla per quanto visto in campo. Però concordo su una cosa. Quello non è stato sufficiente per vincere e abbiamo ottenuto il pareggio. E da lì bisogna ripartire. Dal meritare di vincere le partite. Dal meritarsi davvero in maniera concreta. La devi toccare quella cosa lì. Quando la Juve tornerà a meritare di vincere le partite, tornerà a vincere le partite. E sembra una roba banale, sembra una roba scontata. Ma è qui che bisogna passare. Perché la Juve oggi non sta meritando di vincerle. L'Udinese è una squadra aggressiva. È un aspetto a cui fare attenzione. Sul dato fisico non l'abbiamo fatto. Peggio del Parma. Sicuramente affronteremo una squadra che negli ultimi anni fisicamente è ben strutturata. E a differenza degli altri anni gioca bene a calcio. Ha più palleggio. Finisce le azioni con più passaggi. E questo la porta a essere una squadra che va insieme in avanti. Chiaro che l'area aggressione la fa meglio. Noi dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti del gioco. In chiave difensiva e in chiave offensiva. Per poter competere con l'Udinese. In casa su sei partite ne ha un 25. Perdendo solo dall'Inter. Quindi in casa stanno molto bene. Qui Tiago Motta è molto secco. Nel dire che l'Udinese l'ha descritta anche molto bene. È una buona discrezione dell'Udinese di quest'anno. Però è stato molto bravo secondo me non a descrivere gli avversari. Perché di quello ce ne deve fregare relativamente. Perché l'Udinese la incontriamo domani. E poi la rincontriamo nel ritorno. E chi se ne frega. La Juventus invece ce la portiamo dietro. Quindi siamo noi che dobbiamo essere il focus. E Tiago Motta ancora una volta sta mettendo in dubbio. Tiago Motta all'interno di questa conferenza stampa. Mette in dubbio la qualità del gioco della Juventus di Tiago Motta. La fase difensiva non mi sta piacendo. La fase offensiva non mi sta piacendo. E questo da chi dipende? Da Tiago Motta. Quindi questa è una grandissima autocritica di Tiago Motta all'interno dell'intera conferenza stampa. Perché lui dal primo all'ultimo minuto è andato a evidenziare solo le cose che oggi non stanno funzionando nella Juve. Perché fa questo? Beh probabilmente. Perché lui quando rimane sicuramente con il suo staff, con i calciatori in campo certo. Ma quando arriva a casa e si toglie le scarpe, si sveste per andare a fare la doccia, si prepara la cena e robe del genere. Secondo voi non pensa al fatto che oggi la Juventus non sta andando bene? Non ci pensa? È un tarlo. C'era qui. Lo sta divorando. Ed è normale. Ed è lui che sta andando a tirar fuori tutte queste cose in conferenza stampa. Non sono state delle domande particolarmente col ditino che va a scavare e dice Ma Tiago Motta, ma questo, questo, quell'altro, è lui che sta votando il sacco. È lui che le vuole dire queste cose. Perché è lui che le sta pensando queste cose. Perché è lui che si ritrova da solo con questi pensieri. Quando rimane da solo con se stesso. E questa è un'ottima notizia per la Juventus. Anche perché Tiago Motta sta facendo delle letture lucide. Cioè è esattamente quello il problema della Juve. E chi può risolverlo? Lui. Per risolverlo però deve individuare i problemi. E anche star lì. A pensare costantemente gli fa bene. Perché diventa un'ossessione. E secondo me Tiago Motta è una persona che quando ha un'ossessione fa di tutto per inseguirla. Quindi mi fa molto piacere questa cosa. Molto, molto piacere. Gli infortunati. Domani né Douglas Lewis né Nico Gonzalez. Vedremo per le prossime, ma domani no. Comeners, come procede con il recupero del minutaggio? Sta migliorando, è chiaro che non è al suo massimo livello sicuramente, dato che è stato fermo tanto tempo. È un ragazzo che ha recuperato e si allena bene. È molto positivo e cerca di aiutare la squadra. Vedremo domani quanto potrà giocare. È molto importante per noi. E attenzione qua, c'è una delle risposte che mi è piaciuta di più in assoluto. Perché gli chiedono. Cambiaso l'altra sera ha detto che siete stati molto pigri nelle preventive. E Tiago Motta dice Dobbiamo fare meglio sotto ogni aspetto del gioco. Anche tecnico. Abbiamo sbagliato tantissimo. E questi errori portano noi stessi ad avere dei dubbi e dare fiducia all'avversario. Noi abbiamo sbagliato tanto tecnicamente. Non siamo riusciti a reaggredire nel modo giusto e li abbiamo fatti ripartire tante volte. Questo non è solo fisico. Non è un dato solo fisico. Ma anche psicologico. E va a favore degli avversari. Detto questo, non abbiamo fatto bene. Ma abbiamo meritato molto di più. No, molto no. Ma abbiamo meritato più degli avversari. Dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico, fisico e mentale per poter mettere il nostro gioco in valore e non avvantaggiare gli avversari come fatto col Parma. Allora, perché mi è piaciuto? Perché parte da un concetto. La Juventus ha sbagliato tecnicamente. E questa è un'analisi che abbiamo fatto anche qua sul canale. Ce lo siamo detti. Basti pensare a Cambiaso, proprio che faceva la domanda a Cambiaso. Su Cambiaso, ma Cambiaso mi sembra stato veramente l'emblema degli errori tecnici della Juve. Perché Cambiaso è un giocatore che tecnicamente raramente sbaglia e mi sembra il leader della Juventus dal punto di vista del palleggio. Ok? Però Tiago Motta, se si mette qui a dire abbiamo sbagliato tecnicamente, il motivo per cui non abbiamo vinto col Parma è perché abbiamo sbagliato tecnicamente. Prende la croce e la lancia sui giocatori. E sarebbe sbagliato. Perché non è così. E allora che cosa ti dice? Tecnicamente abbiamo fatto degli errori. Facendo degli errori tecnici abbiamo dato fiducia all'avversario e siamo andati a limitare quello che era il nostro gioco, quello che avevamo preparato da mettere in campo con cui affrontare gli avversari. E quindi, sì, abbiamo sbagliato tecnicamente, ma non ha funzionato neanche quello che avevamo preparato a livello tattico. Perché è un insieme di fattori. Tecnico, fisico, tattico e mentale. E Tiago Motta te li mette tutti dentro. Tutti. Uno è conseguenza di quell'altro. Poi può capitare la serata in cui, come l'altra sera, secondo me l'avvento si è sbagliato troppo tecnicamente e quindi, quando sbagli tecnicamente, per forza di cosa, la partita prende una piega diversa. Ma non è che ti viene a dire oh, col Parma non abbiamo vinto perché i calciatori in campo sbagliavano i passaggi. Perché questo poteva essere un discorso molto semplicistico da fare del quale se ne lavava le mani e non mi sarebbe piaciuto assolutamente perché l'allenatore della Juventus deve prendersi le sue responsabilità. E Tiago Motta lo sta facendo. Questa è la cosa che mi piace in questo momento difficile, sì, lo dico io. Lui aveva fatto così con la testa, ci arriveremo dopo, ma lo dico io, sì, è un momento difficile per la Juve. E credo che non ci sia niente di male nell'ammetterlo. lui invece non vuole dimostrare, non vuole far vedere la sua debolezza di questo momento. Perché lui sta affrontando dentro di sé queste discussioni. Ed è giusto che sia così. Vlaovic, domani può rifiatare? Può essere una soluzione da valutare oggi nell'ultimo allenamento. Devo dire però che in questa fase della stagione i giocatori non sono stanchi, stanno bene. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, fare meglio e affrontare la prossima partita. Quando arriverà il momento? Se arriverà il momento, troveremo la soluzione migliore per sostituire Dusan dall'inizio. Per me domani non gioca Vlaovic dall'inizio. Ma ve lo dicevo già ieri nelle pagelle. Mi aspetto uno tra Ildiz e UE a falso 9. Poi vedremo se sarà davvero così oppure no. Però dice una cosa importante qua Tiago Motta. I calciatori in questo momento della stagione non sono stanchi. Io l'altra sera ho visto una Juve molto stanca col Parma. E questa cosa mi aveva preoccupato tantissimo. Secondo me ci sono dei giocatori che invece hanno bisogno di rifiatare. Il problema è che in questo momento non lo possono fare. Ed è un bel gatto che si morde la coda. Fonseca ha detto che non ha mai visto perdere un campionato dopo 9-10 partite. Lei crede ancora nello scudetto? E Tiago Motta dice È ovvio sia la domanda che la risposta. Non è mai esistita una squadra che ha vinto oggi il campionato. Noi dobbiamo fare bene domani con l'Udinese. E su questo dobbiamo essere concentrati. Su tutti gli aspetti del gioco dobbiamo migliorare. Non solo quello difensivo. E non è una roba individuale ma collettiva. Così come quello offensivo. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più. Fare meglio sia per me stesso. Non per me stesso ma per la squadra. E io per primo. Perché mi metto sempre in prima fila. Qui Tiago Motta Con quel È ovvio ci racconta anche tante cose. Perché dice ovvia sia la domanda che la risposta. Anche quando si parla dello scudetto. E quando Vanno a incalzare A dirgli Quindi crede nella remonta Dice io penso a domani all'Udinese Ma quello è ovvio. È un ovvio che racconta tutto. E poi Davvero ragazzi Io Sono completamente d'accordo Sul fatto che sia ovvio E mi meraviglia il fatto che Delle persone invece Credano il contrario È ovvio che Al primo di novembre Non può essere finita una stagione Ma ci mancherebbe altro Ma di cosa stiamo parlando? Se È finita una stagione al primo di novembre Allora io alzo le mani Poi non significa che Non possa essere questa La classifica finale Assolutamente no Potrebbe benissimo esserlo Ma lo sapete meglio di me Che Il calcio va a momenti Ragazzi lo scorso anno La Juventus Ha fatto Una prima parte di stagione Da scudetto E una seconda parte Da stagione Da retrocessione Cioè ditemi che non conta Il momento in cui Ed erano gli stessi giocatori Identici Non era cambiato nulla Zero era cambiato È che va a momenti Ci sono dei momenti in cui Tecnicamente Tatticamente Fisicamente Mentalmente Riesce a fare delle cose E altre in cui non le riesce a fare No Non vale mica solo per la Juventus Vale per la lastra E la Fiorentina che ieri ci hanno superato Vale per l'Atalanta che è davanti Vale per il Napoli Vale per l'Inter Vale per il Milan La Roma che sono dietro Vale per tutti Sta roba vale per tutti Quindi Io lo torno a dire Sono contento che Tiago Motta Si sia anche meravigliato E abbia detto Ma è ovvio Ma che domanda hai Ma figurati se può essere finita Una stagione al primo di novembre Ma è così È assolutamente così Ma per darla svolta alla stagione Cosa bisogna fare? Tutto quello che Tiago Motta Ha criticato in maniera costruttiva Del suo operato All'interno di questa conferenza stampa È questa cosa Che continua a darmi fiducia In questo progetto Perché quello che Risponde alle domande Quello che siede in panchina Quello che prende le decisioni Quello che fa gli allenamenti Quello che prepara le partite È pienamente consapevole Di quello che sta dicendo e facendo Di quello che sta andando male Di quello che sta andando bene Di cosa deve modificare Di cosa deve mantenere Tiago Motta È pienamente consapevole Di queste cose E questa è un'ottima notizia Per la Juventus Anche in un momento difficile Perché poi a Tiago Motta Li chiedono È un momento complicato Lì con la testa Continua a fare così E io lo dico sì Lo dico io Non lo può dire Tiago Motta Ci mancherebbe altro Fa benissimo dire di no Se l'allenatore della Juve Va in conferenza stampa Dice sì Un momento delicato È un disastro Fa bene dire di no Lo dico io È un momento complicato Sì lo è Ma dal fango si può uscire Assolutamente Ci siamo impantanati Non vuol dire che affonderemo Nelle sabbia mobili Le squadre che hanno affrontato la Juve Hanno capito qualcosa della squadra E lei come vorrebbe essere ricordato la Juve E lui dice Non ci penso neanche a queste cose Con tutta l'onestà del mondo Anche perché non è la Juve di Motta È la Juve allenata da Motta Sì questo mi piace di più E poi dice Una frase Per concludere tutta questa autocritica Che è meravigliosa Sono i fatti È evidente che dobbiamo migliorare Su ogni aspetto del gioco Per essere una squadra più competitiva Più forte Per affrontare gli avversari in modo migliore Per arrivare ai risultati che vogliamo Per essere in classifica dove vogliamo È ovvio Sono i fatti che parlano È quello che vi dicevo nel video dell'altro giorno Ragazzi ma Noi davvero dobbiamo metterci qua E dirci La Juventus di Tiago Motta Va benissimo Così è perfetta Non ci entra a modificare Ci staremo prendendo per il culo Starei perdendo tempo Io a registrare E voi ad ascoltare Non avrebbe senso E se l'allenatore della Juventus Arriva in conferenza stampa E ti dice Che è ovvio ed evidente Che in questo momento Bisogna migliorare Perché così Non si va da nessuna parte Per ottenere i risultati che si vuole La classifica che si vuole La prestazione che si vuole Ascoltiamolo quest'uomo Perché è lucido E questa conferenza È una conferenza super lucida In cui non concordo soltanto Con l'analisi del Parma Dove lui dice Che la Juventus avrebbe meritato la vittoria Per me no Per me ci sta il pari Ci stava a perdere Ci stava a vincere È stata una partita troppo strana Ma è anche l'emblema Di quello che non deve essere la Juve oggi E poi conclude con qualcosa Di ancora più bello Perché dice Per tutto il resto Io non controllo l'opinione Non la posso controllare Io tutte le opinioni le rispetto E anzi alcune le prendo come un aiuto Altre invece le lascio passare Perché vedo che ci sono cose Con altri interessi che non servono Io su questo mi concentro E concentrandomi su questo Riusciremo a migliorare Perfetto Semplicemente perfetto Ci sono delle opinioni Delle critiche costruttive Che vanno ascoltate E io spero che Tiago Motta Possa imparare tanto Dalle persone che In maniera costruttiva Vanno a stimolarlo E a dirgli Mister Insomma è questo 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 no Ma l'ha dimostrato All'interno di questa conferenza stampa Perché Tiago Motta È una persona super intelligente E io ve lo dico oggi È il momento più difficile Da quando è partito questo progetto Sono fiero ed orgoglioso E contento Di avere Tiago Motta Come allenatore della Juventus Ho piena fiducia in Tiago Motta Ho piena fiducia in questa stagione Sono convinto Che la Juventus Riuscirà a tirar sulla testa E a tornare a farci divertire Se sarà così Se non sarà così Lo scopriremo soltanto a fine stagione E sicuramente Non al primo Di novembre Ciao a tutti ragazzi Grazie per essere arrivati fino a questo punto Forza Juve Tanti auguri Juve E ci vediamo domani Un abbraccio